Questa mattina c'è questo sit-in nei pressi dell'Istituto Eugenio Ravasco di Viale Bovio a Pescara. Quali sono i motivi di questa protesta, di questa manifestazione? C'è stata una notizia allarmante che non sappiamo bene da chi è arrivata, che dichiarava che la scuola sarebbe stata chiusa. Ovviamente io sono preoccupata da genitore, perché questa per noi è una scuola unica. Mio figlio frequenta un liceo sportivo di indirizzo pedagogico e non ce ne sono altre all'interno della nostra città di Pescara. Ho avuto in precedenza una figlia che si è diplomata qui, che ha avuto ottimi risultati. Quindi credo fortemente nella competenza e nelle capacità di questo istituto. Avete parlato con i vertici della scuola? Abbiamo parlato con i vertici della scuola che ci hanno garantito la continuità didattica. Quindi da domani i nostri studenti, i nostri figli entreranno a scuola. I professori sono prontissimi a riceverli e ovviamente a continuare con garanzia, a dare garanzia al piano didattico. Come mai questa mattina qui questa protesta davanti ai presidi della scuola? Per evitare che comunque, non la chiusura, ma per evitare che i cicli già iniziati abbiano l'obbligo di terminare i loro studi altrove. È stato lanciato questo allarme da chi? Perché? La preside ha avvisato i professori sabato mattina e i genitori delle famiglie che non fossero comunque degli ultimi anni sabato pomeriggio. E noi infatti oggi stiamo mobilitando per il semplice motivo che ci è stata negata l'assemblea dell'istituto per parlarne. E allora stiamo facendo una manifestazione appunto per questo. Perché comunque dobbiamo far conoscere il nostro dissenso. E il fatto che noi, seppur essendo rappresentanti all'istituto, stiamo rappresentando tutti quanti gli studenti, anche quelli che oggi non ci sono, ma tutti quanti, anche gli ex alunni, che comunque non vogliono che questa scuola finisca così. Abbiamo paura di avere il futuro perché questa scuola va avanti da 90 anni. E c'è stato privato il nostro futuro anche a noi del quinto anno di comunque tornare nella nostra casa. Perché questa non è solo una scuola, non sono solo un mura, ma è una famiglia. Siamo pochi e siamo tutti uniti. E lo stiamo dimostrando qui davanti. Avete parlato con la madre superiore? Con la madre superiore no, perché è a Roma, ma oggi abbiamo parlato con la preside. E niente, noi siamo qui tutti uniti perché come è giusto che noi concludiamo quest'anno con il nostro esame di Stato, anche gli altri anni lo devono fare.